Vertice in prefettura questa mattina a Ragusa per parlare del servizio di trasporto e assistenza sospeso a causa di mancanza di fondi da parte della regione Sicilia e rivolta ai disabili. L'incontro è stato voluto dal forum terzo settore, la libri si è già rivolta all'assessorato regionale competente. La procura di Ragusa interrogarà giovedì Andrea Stival, il nonno del piccolo Loris, ha ucciso Santa Croce Camerina nel 2014, Andrea è indagato per atto dovuto dopo l'ultima versione della nuora a Veronica Panarello che lo ha accusato di aver ucciso Loris. Dopo la decisione del Coni di sopprimere la scuola regionale dello sport a Ragusa, l'ormai delegato, l'ex delegato, Sassacintolo, ha incontrato i giornalisti per dire la sua, Sassacintolo ha respinto ogni possibile accusa e illazione su una gestione poco trasparente della scuola. In occasione del giubileo della misericordia voluto da Papa Francesco, la sagra rappresentazione della Madonna Vasa Vasa subirà quest'anno una rivoluzione, saranno tre i baci in tutto, sei i baci in tutto a quelli istituzionali della mattina, se giungo lì tre serati. Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su video mediterraneo, l'apertura dunque lo avete visto dai titoli e dedicata al trasporto e all'assistenza dei disabili. Dopo l'incontro di ieri alla CGL sul tema, oggi si è tenuto un vertice in prefettura a Ragusa, un argomento che tiene nuovamente banco e che vede la sospensione dei servizi che consentono agli studenti disabili di poter frequentare la scuola. Una situazione patita da 160 famiglie circa. Intanto sull'argomento è intervenuto anche il deputato regionale Orazio Ragusa. Tutti i dettagli in questo servizio. E' già approdato in prefettura a Ragusa il tema dei disabili. Da oggi infatti il servizio di trasporto ed assistenza è stato sospeso. La mancata corresponzione da parte della regione siciliana è stata al centro di un incontro promosso dal forum Terzo Settore che oggi ha incontrato il prefetto di Ragusa, Maria Carmela Librizi. Torna a tenere banco il delicatissimo argomento del servizio di trasporto ed assistenza dei disabili della provincia di Ragusa. Durante l'approvazione della finanziaria è stata infatti totalmente dimenticata, per così dire, la somma destinata ai servizi che permettono agli studenti diversamente abili di poter frequentare gli ambienti scolastici. Una storia che si ripropone ogni anno, a cadenza quasi bimestrale. Il prefetto di Ragusa si è già attivata ed ha scritto all'assessorato di competenza. Ho assicurato i componenti del Terzo Settore di avere già ieri appena presa la notizia interessato l'assessorato regionale competente perché rivolga a questa questione una particolare attenzione. Chiederò anche ai comuni, chiaramente sappiamo bene che i comuni hanno problemi di carattere finanziario, è una situazione generalizzata, però credo che a questo problema la sensibilità delle amministrazioni comunali può essere tale da fornire un aiuto e un contributo. Intanto sull'argomento è intervenuto anche l'onorevole Orazio Ragusa, una gravissima responsabilità che si è assunta a questo governo regionale, ha sottolineato Ragusa. Stralciato il nostro emendamento da 2,4 milioni di euro per riequilibrare i conti del libero consorzio di Ragusa, ha concluso così il deputato regionale. Parliamo di finanziari, alle 15.30 circa sono ripresi i lavori d'aula, l'Assemblea regionale siciliana che entro oggi dovrebbe approvare la legge finanziaria della regione Sicilia. La seduta del pomeriggio è comunque iniziata all'insegna delle polemiche e dello scontro tra il presidente dell'ARS, Giovanni Ardizione, e i deputati regionali in merito ai contributi ad enti, istituzioni, fondazioni e associazioni. E' ripresa all'Assemblea regionale siciliana la seduta per proseguire l'esame della legge finanziaria, che dovrebbe essere approvata entro questa sera. I deputati dovranno esaminare l'articolo 22 della legge finanziaria. In aula, per il governo, l'assessore all'economia Alessandro Baccei e l'assessore al turismo Anthony Barbagallo. La seduta è preseduta dal presidente Giovanni Ardizione. Parte tra le polemiche e le tensioni in aula la maratona. Al centro delle polemiche è l'articolo 22 della legge di stabilità, la cosiddetta ex tabella H, che riguarda l'allegato 1 della finanziaria e che contiene un lungo elenco di enti, fondazioni, teatri finanziati dalla regione. La materia del contendere sono i contributi a enti, istituzioni, fondazioni e associazioni, una torta di circa 300 milioni di euro. Il presidente dell'ARS, Giovanni Ardizione, sta difendendo la linea adottata con lo stralcio dei finanziamenti che erano stati inseriti nell'ex tabella H durante la maratona notturna in commissione bilancio. Linea condivisa dal Movimento 5 Stelle, secondo cui gli enti e la fondazione da finanziare devono essere quelli che hanno superato il vaio della Corte Costituzionale, vale a dire non impugnati. Intanto il governo è stato battuto sull'emendamento a firma MPA che sopprime con voto segreto la spesa annua di 1.237.000 euro per la gestione del servizio di dissallazione dell'isola di Vulcano. Da circa due anni, anche in occasione delle recenti audizioni nell'ambito della legge di stabilità regionale, l'Anci Sicilia ha evidenziato come la gestione dei liberi consorsi e delle città metropolitane non sia lo stato possibile se non attraverso un ripensamento delle funzioni e delle fonti finanziarie. Chiediamo, come già proposto dall'assessore Baccei, dicono adesso Orlando e Alvano, che insieme con il governo regionale si avvii un immediato confronto con Roma, consapevoli del fatto che un assetto stabile nella gestione del territorio, di comune e degli enti di secondo livello debba presupporre un'intesa tra Governo nazionale, Governo regionale e sistema delle autonomie locali. Sono Nadia Fiorellini e Claudio Lamattina, i due nuovi assessori della Giunta Nicosia a Vittoria, mentre Gaetano Bonetta è il nuovo vice sindaco. È stato il sindaco a nominarli a seguito delle dimissioni dalla carica assessoriale di Filippo Cavallo. A Fiorellini sono state attribuite le deleghe al bilancio, pari opportunità e diretti civili, protezione animali. Alla mattina sono stati assegnati i settori manutenzione e protezione civile. I due nuovi assessori hanno prestato giuramento questa mattina nelle mani del segretario generale del Comune Paolo Reitano. L'incarico di vice sindaco è stato conferito all'assessore alla cultura e istruzione, come detto, Gaetano Bonetta. E passiamo alla cronaca. La procura ha disposto l'interrogatorio di Andrea Stival, nonno di Loris, accusato da Veronica Panarello di aver ucciso il bambino a Santa Croce e Camerina il 29 novembre del 2014. Andrea Stival è indagato per atto dovuto per il diritto del nipote Loris. Sarà interrogato dal sostituto procuratore di Ragusa Marco Rota giovedì mattina in procura. Da lui il pubblico ministero vorrà sapere notizie circostanziate circa l'ultima versione della nuora, Veronica Panarello, che ha accusato Stival di aver ucciso il bambino strangolandolo con un cavo USB per tenere nascosto il loro segreto, la presunta relazione extraconiugale scoperta da Loris. La vittima, secondo le dichiarazioni della Panarello, ha visto la madre e il nonno fare sesso in cucina dieci giorni prima del delitto e ha minacciato la donna di riferire tutto al padre. Per gli inquirenti, con questa versione, la Panarello ha fornito solo il movente che mancava, ma non credono i fatti che legano Andrea Stival al delitto. Non c'è prova che lo inchioda. La procura ha esaminato, non tralasciando alcun dettaglio, la posizione dell'uomo chiamato in corretà dalla Panarello. Gli investigatori hanno trascorso giornate intere a riesaminare le immagini delle telecamere di biosorveglianza, non trovando alcun riscontro rispetto alle ultime dichiarazioni. Nelle vie indicate dalla Panarello, dove ha riferito di aver lasciato il suocero dopo il delitto e l'occultamento, non c'è traccia di loro due in auto. Il lavoro del legale della difesa, Francesco Vilardita, insieme con i videoforensi e i periodi, si sta concentrando anche su quest'ultimo aspetto della vicenda. L'obiettivo è trovare elementi oggettivi, elementi di prova che possano sostenere e rafforzare poi la tesi d'accusa di Veronica Panarello nei confronti del suocero. Per il legale di Andrea Stival, Francesco Biazzo, nominato per difendere la parte civile ma che adesso si trova invece a dover difendere il suo assistito per un'indagine nei suoi confronti, le rivelazioni della Panarello non hanno alcun fondamento. Ha fermamente rigettato anche stamattina ogni parola della donna a carico di Stival. Giovedì mattina Andrea Stival potrebbe anche avvalersi della facoltà di non rispondere, ma il suo legale è certo che parlerà perché non ha nulla da nascondere, anzi intende collaborare per far sì che venga chiarita questa turpe vicenda che lo ha visto coinvolto nell'omicidio del nipote. Sarà contestualmente sentita anche la compagna Andreina Fiorilla come persona informata sui fatti. Intanto sta per concludersi la perizia psichiatrica disposta su Veronica Panarello che rimane rinchiusa nel carcere di Catania. Rimangono le ultime sedute alla deposizione degli atti della perizia entro il 17 marzo, data dell'udienza, anche se i consulenti potrebbero anche chiedere una proroga. Lasciamo per il momento di la cronaca. Parliamo di sanità perché il comune di Ragusa si dice pronto a rivolgersi al Tribunale amministrativo per contestare il decreto approvato dalla Giunta regionale sul piano di riordino della sanità provinciale. Secondo l'ente di Palazzo dell'Aquila l'atto presenta delle criticità che non tengono conto della baricentricità delle strutture ospedaliere. Sentiamo Carmela Minardo. Il comune di Ragusa è pronto a rivolgersi al Tribunale amministrativo di Catania per contestare il nuovo piano aziendale sanitario che secondo l'ente di Palazzo dell'Aquila non fornisce risposte alle esigenze previste anche dal decreto Balduzzi sul diritto alla salute dei cittadini. Il piano deve nascere da precise esigenze di salute della popolazione e deve a queste esigenze che devono essere quindi tirate fuori con dei numeri ben precise deve dare una risposta e la risposta che il decreto Balduzzi ha fissato è un ospedale di primo livello con degli ospedali periferici e nell'ospedale di primo livello per legge devono essere previste determinate strutture, determinati servizi anche unità di terapia intensiva e così via che non devono essere previste altrove. In particolare non convincono gli spostamenti di alcuni reparti dagli ospedali di Ragusa come ad esempio malattie infettive e ortopedia che verrebbero collocate al maggiore di Modica e l'unità coronarica che resterebbe a Vittoria. Stamane nel corso di un incontro con i giornalisti alla quale hanno presenziato tra gli altri anche l'ex presidente del Consiglio Iacono e l'avvocato dell'ente Ibleo Boncoraglio è stato spiegato che il nuovo decreto approvato dalla Giunta regionale con parere vincolante non rispetterebbe il principio della baricentricità del territorio. Al momento si attende la pubblicazione sulla Gazzetta regionale per avviare le procedure ed eventualmente chiedere una sospensiva al Tribunale amministrativo. Oggi ci troviamo davanti a un piano che invece è lacunoso dal punto di vista dei numeri perché non ci sono i numeri per quanto riguarda il bisogno di salute e lacunoso quindi anche in termini di pianta organica perché non si capisce sulla base di cosa vengono divise le persone dipendenti che devono essere assunte o quelle che devono essere regionalizzate e dall'altra parte manca proprio la centralità che è prevista dalla norma e che prevede un ospedale di Ragusa che ha un ruolo di ospedale di primo livello e ospedali periferici. L'ormai ex delegato regionale del CONI, Sesac Cinto, lo stamani ha deciso di intervenire sulla decisione del presidente regionale del CONI, Sergio D'Antoni, di effettuare delle verifiche sulla gestione della scuola regionale dello sport di Ragusa. In pratica l'obiettivo è stata da sempre la chiusura della scuola perché secondo lui e secondo le persone che gli hanno riferito tutte queste cose noi spendiamo troppo per la gestione. E questo secondo l'ex delegato della provincia di Ragusa, Sesacintolo, lo scopo della decisione di commissariare il CONIBLEO, discussa dalla giunta regionale lo scorso 12 febbraio. Chiudere quella che a Ragusa era considerata un fiore all'occhiello, la scuola regionale dello sport. In realtà questa struttura è stata considerata, e lo è attualmente anche se degradata, per le inadempienze del CONI nazionale, la più bella d'Italia. Così disse Petrucci quando è venuto qua. Stamane Cintolo ha deciso di convocare i giornalisti per spiegare le sue ragioni, costretto anche ad emigrare in un'altra struttura per tenere l'incontro. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, quando il segretario regionale Nuccio Lionello ha cercato di far sostituire anche le serrature. E proprio la presenza di quest'ultimo all'incontro di stamane ha determinato momenti di nervosismo. Ho scusato un attimo, ho scusato un attimo, ho scusato un attimo, ho scusato un attimo. Ma non è come la faccia come la faccia, ma che significa solo che non la faccia? Non è come la faccia, ma no, è una promozione, è una promozione, è la mia. Un giaccusa tutto tondo contro il nuovo presidente regionale Sergio D'Antoni. Un ventennio, il suo, speso per la cultura sportiva, che secondo Cintolo è stato azzerato per inettitudine e incapacità. Ma per Cintolo l'era della scuola regionale dello sport, struttura di proprietà dell'ex provincia, non sarebbe concluso. Se non disettono l'oro, disetterà il proprietario dell'immobile, che è la provincia. La quale provincia è talmente incavolata perché la struttura ora è degradata e tiene in piedi per i nostri sacrifici, i miei, dei collaboratori, eccetera, eccetera. La struttura è degradata e tutti i danni che derivano dal degrado della struttura sarà costretto a pagarli il cone nazionale. Ritorniamo a parlare di cronaca perché la polizia di frontiera ha bloccato un uomo con un tirapugni diretto a Londra. È stato fermato all'aeroporto di Comiso e non ha saputo fornire alcuna motivazione sul possesso dell'arma. Sentiamo Viviana Sammito. Gelese, 21 anni, stava imbarcandosi ieri per Londra dall'aeroporto di Comiso ma con un tirapugni nascosto nella tasca di un jeans nel bagaglio a mano. La sicurezza aeroportuale, dall'esame dei monitor, ha notato l'arma e ha chiamato la polizia per procedere all'ispezione. Dentro il bagaglio a mano era ben occultato il tirapugni nel tentativo di eludere i controlli. Il giovane è stato condotto nell'ufficio della polizia di frontiera per verificare la sua posizione e controllare la presenza di eventuali altre armi. Il 21enne non ha spiegato il motivo per il quale deteneva il tirapugni e a cosa gli sarebbe servito. Tuttavia è stata esclusa ogni ipotesi su eventuali collegamenti con gruppi terroristici. Il gelese è stato riaccompagnato ai gates di partenza per essere imbarcato sul volo per Londra ed è stato denunciato per il possesso di arma di genere vietato. Rimane sempre elevato il livello dei controlli di sicurezza dell'aeroporto di Comiso soprattutto da quando i livelli di allerta di tutti gli aeroporti italiani è aumentato a seguito degli attentati di Parigi. Neanche un mese fa era stato denunciato per lo sessoreato un giovane di Caltanissetta trovato in possesso di un coltello e pronto a imbarcarsi su un volo per Francoforte. 60 migranti questa mattina hanno protestato per la scarsa qualità del cibo offerto dal centro Canicarao di Comiso. Gli ospiti della struttura hanno dato visita ad un sitino e gli operatori socioassistenziali hanno chiamato la polizia. Non ci sono stati per fortuna tafferuglio feriti ma il commissariato di polizia di Comiso sta valutando i fatti per accertare eventuali responsabilità. E torniamo a parlare delle polemiche sulla bocciatura dell'emendamento di Pasquale sulle royalties agli altri comuni e del botte risposta tra l'onorevole Di Pasquale e il sindaco di Modica Ignazio Abate. Oggi a scendere in campo sono il partito democratico di Modica e la lista civica adesso Modica. Non si placano le polemiche a Modica dopo la bocciatura dell'emendamento di Pasquale sulle royalties. Ad intervenire oggi sono il partito democratico e la lista civica adesso Modica. Il PD scrive una dura lettera contro il sindaco Abate. Dopo essersi vantato di essere il vero demiurgo dell'emendamento a firma dell'onorevole Di Pasquale scrive il PD e ciò grazie alle sue importanti amicizie e frequentazioni romane è riuscito a cambiare carrozza un istante dopo la bocciatura dell'emendamento da parte dell'Ars. Secondo il partito democratico pare che il sindaco sia intenzionato a mettere mano alle politiche regionali per eliminare quel caos che a suo avviso regna Palermo mettendosi a capo di un movimento di sindaci del comprensorio. Da parte nostra scrive il partito democratico non possiamo che formulargli migliori auguli per quella che pare essere l'inizio della sua campagna elettorale per le regionali. Prima che Abate parta per Palermo suggeriamo, scrive il PD, di mettere ordine nel caos che regna Modica come ad esempio inviti di pagamento di tasse già pagate ed estenuanti file di cittadini imbufaliti, stipendi non pagati. Sulla vicenda delle royalties si interviene anche la lista civica adesso Modica con una nota a firma del capogruppo Claudio Gugliotta e del presidente Momo Carpentieri. L'emendamento bocciato, scrivono, a prescindere dalla paternità di chi l'ha proposto avrebbe portato il finanziamento di 880 mila euro che avrebbe dato un respiro di sollievo alla città. La guerra tra il PD e il Movimento 5 Stelle a Ragusa ha causato, scrive adesso Modica, la bocciatura di un emendamento quanto mai lecito e l'inutile vittoria di Pirro del comune ragusano che a discapito di tutti gli altri comuni si tiene tutto il tesoretto. Anche a Modica la politica alterna umori, ballerini e rivendicazioni, quanto ma ormai obsolete, che odorano più che altro di campagna elettorale imperante, scrivono Carpentieri e Gugliotta. Adesso Modica auspica che in futuro una situazione del genere non si verifichi più e al di là delle appartenenze politiche e dei ruoli istituzionali, si lavori in sinergia per lo sviluppo dei territori blei ed in particolare di Modica. Ed è arrivata immediata la replica del sindaco di Modica Ignazio Abbate. Lo dicano chiaramente i democratici modicani che da che parte stanno preferibilmente senza insultare come fa il compagno di Pasquale. Nei prossimi giorni, dice il primo cittadino, ha riferito che incontrerà l'Anci regionale e nazionale per presentare un disegno di legge organico che regolamenti l'erogazione delle royalties di terra e di mare sui territori. Io ci sto provando a fare qualcosa per la mia città di Ciabate e per il mio comprensorio. Mi auguro che anche il PD di Modica faccia lo stesso. Ha concluso il primo cittadino. Sono stati sospesi i lavori della rotatoria di dente crocicchia a Modica su decisione del Tar a causa del ricorso presentato dalla ditta che è arrivata seconda alla gara d'appalto relativa alla direzione del cantiere. Si è già riunita la commissione aggiudicatrice per adiempiere alle disposizioni contenute nella sentenza del Tar e ha approfondito alcuni aspetti della modalità di aggiudicazione pubblicando il verbale di gara sul sito istituzionale del Comune di Modica. Esaurito il periodo di pubblicazione verranno adottati i provvedimenti definitivi per la rassegnazione del servizio che consentirà la ripresa dei lavori. Sono già iniziati i controlli nell'ambito dell'operazione antisfregio nella zona traffico limitato a Catania. È partita ieri a Catania l'operazione antisfregio rivolta ad esercenti e commercianti del centro storico che non avranno eliminato gli impianti pubblicitari legali sui muri esterni e che dovranno dunque pagare multe che vanno dai 400 euro in su, oltre al lavoro di rimozione coatta dei cartelli. Gli esercenti sono stati avvisati già la scorsa settimana dalla Polizia Municipale. I controlli inizieranno dalla zona traffico limitato, coordinati dagli assessorati al decoro urbano e alla Polizia Municipale per garantire la rimozione dei cartelli pubblicitari fissati stabilmente sui muri esterni di vari tipi di esercizi e in particolare di quelli per la somministrazione di cibi e bevante. Tutti questi cartelli, secondo gli assessorati, violerebbero le norme del Codice della strada e il regolamento sulle pubblicità e le affissioni del Comune. Con una settimana di anticipo, ha dichiarato l'assessore Marco Consoli, abbiamo annunciato l'operazione e abbiamo mandato in giro pattuglie della Polizia Municipale, avvisando commercianti ed esercenti. Catania, ha detto invece, l'assessore Di Salvo sta crescendo come numero di turisti e la sua offerta culturale diventa sempre più interessante. Ma una città che vuole offrire ai turisti il meglio di sé non può certo permettersi questi orribili cartelli che violano non soltanto le norme ma persino ogni regola di buonsenso. In realtà bisogna rideterminare regole certe, non vuole essere un'azione di abuso nei confronti degli esercenti ma perlomeno vuole essere un'azione di sensibilizzazione, cercando di fare capire che il bene comune è un bene che va tutelato da tutti, da chi opera nel territorio, da chi lo vive e con maggiore responsabilità da chi ha il mandato di amministrarlo. Ci aspettiamo che ci sia una risposta di partecipazione da parte della città nel suo insieme. Parliamo di Catania dove è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il comune di Catania e l'autorità portuale. Sentiamo. Un importante protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale di Catania e l'autorità portuale rappresentata da Cosimo Indaco è stato firmato questa mattina a Palazzo degli Elefanti. Grazie a questo protocollo saranno avviate da un tavolo tecnico appositamente costituito le attività necessarie all'arretramento della cinta doganale e la conseguente assegnazione delle aree liberate all'uso urbano. Inoltre si darà il via alla pianificazione concertata per alcune aree in sovrapposizione tra porto e città con l'individuazione di programmi di sviluppo. Oggi il porto apre e apre presto. Il 25 aprile alzeremo la sbarra doganale e dalla via Dusmet si potrà liberamente entrare nel porto della città. Piano piano questa zona diventerà una piazza, una prosecuzione di piazza Borsellino, l'ex piazza Alcalà. È previsto un bellissimo progetto per utilizzare la Molo Foranio che è una delle più belle passiate per la città. Esattamente quello che è avvenuto a Genova, a Trieste e a Napoli avverrà anche a Catania. Il porto restituito in larga misura nella sua estensione non essenziale alla sicurezza doganale restituito ai catanesi. Con l'intesa sottoscritta al Comune di Catania si avvierà anche la verifica e la condivisione della proposta di piano regolatore portuale predisposto dall'autorità portuale che sarà poi sottoposto all'esame del Consiglio Comunale. Io reputo che è un'opportunità per questa città non solo di appropriarsi del mare ma di fruirne in una maniera quando più completa possibile. Accanto a questa piscina ci sarà una struttura destinata allo sport, quindi ci sarà diportismo, crocerismo, sport e poi anche la possibilità di queste passeggiate. Una chiesa aggremita di gente ad accogliere l'insediamento del nuovo parroco della chiesa di San Pietro, Don Antonello Abate. Vediamo. Padre Antonello Abate ha fatto il suo ingresso ufficiale da nuovo parroco nella chiesa madre di San Pietro a Modica. Ieri sera a sancire il suo insediamento la lettura della bolla vescovile da parte di Don Antonio Forgione, cancelliere della Curia. Una solenne cerimonia ufficiata da Monsignor Antonio Stagliano, vescovo della diocesi di Noto. Il vescovo in questi mesi è stato chiamato a scegliere la nuova direzione della chiesa di San Pietro, che sino a dicembre era guidata da Don Corrado Lorefice e ormai arcivescovo di Palermo. Una decisione ponderata per una parrocchia che nasce in una prospettiva nuova di rinnovamento del clero, così come ha dichiarato Monsignor Stagliano. Io ho pensato soprattutto a lui che qui, nella sede di San Pietro e nella comunità di parrocchia di San Pietro e San Paolo possa, mantenendo la responsabilità parrocchiale anche delle altre parrocchie di Zappulla, di Quartarella e di Santa Rita, insieme ad altri preti che vivono con lui, possano far risorgere questa umanità bella e nuova di cui parla Gesù. Ed anche in questa occasione abbiamo chiesto di spiegare a Monsignor Stagliano la sua scelta attraverso una canzone della musica italiana. In un certo senso nell'Omelia io ho citato una canzone, e ho citato la canzone di Arisa, Controvento. Risolverò, magari poco o niente, ma ci sarò, e questo è l'importante. Acqua sarò, che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando Controvento. E allora, nel viaggiare Controvento, ho detto nella predica, bisogna andare contro la mentalità di questo mondo, già Gesù ce lo dice. Una vita in comune con altri presbiteri, quella che spetterà Don Antonello Abbate, chiamato ad essere il primo tesimone nel custodire la comunità di parrocchie. Il ruolo di padre Abbate è nel segno di Papa Francesco. La semplicità della fraternità, di un contatto reale, di un confronto vero, di un cammino sincero, spero, e di un ascolto innanzitutto, perché penso che la prima cosa che devo imparare a fare, il resto è la cosa che il Signore mi ha sempre insegnato, quello di ascoltare prima di parlare. I tanti doni che questa comunità ha potuto ricevere con Don Gorrato, lui è ancora vivo e fa parte di noi, resterà nella storia di questa, lo vogliamo tanto bene, io stesso ero presente a Palermo, quanto in un certo senso l'abbiamo consegnato con grande dispiacere. Importanti novità quest'anno per la Madonna Vasa Vasa a Modica, sentiamo quali. Il giorno di Pasqua a Modica, la Vergine Maria bacerà il figlio ben sei volte. Stiamo parlando dell'attesa manifestazione pasquale modicana della Madonna Vasa Vasa, che in occasione dell'anno giubilare sarà investita da delle novità. Ai baci della mattina si uniranno tre momenti serali, per la prima volta nella storia. In pratica, a medogiorno, dopo la caduta del mantello nero del lutto, che avvolge la Vergine adorata prima della visione del figlio, ci sarà il primo bacio in piazza Monumento, poi a seguire il secondo dinanzi la Chiesa Madre di San Pietro, il terzo davanti la Chiesa di Santa Maria di Betlem, luogo dove per tutto l'anno vengono custoditi i due simulacri. A questi tre momenti conosciuti e storici della manifestazione se ne aggiungeranno tre per quest'anno. Si terranno sotto il cielo notturno di Modica altri tre baci. Il primo alle 19 in piazza Corrado Rizzone, il secondo alla Basilica Minore delle Madonne delle Grazie, luogo del Giubileo, e il terzo nella centralissima piazza Matteotti. A seguito dei tre momenti di amore materno, le due statue faranno rientro in chiesa, ad attenderli allo stesso tempo a sancire la fine della manifestazione, uno spettacolo pirotecnico, che prenderà vita quando i portatori saranno dinanzi a Santa Maria. Un'edizione quindi molto attesa, con questi tre importanti momenti che coinvolgeranno la manifestazione. Ai baci della mattina si aggiungeranno i tre baci della sera, novità assoluta e voluta fortemente in occasione dell'anno giubilare. Soddisfazione è stata espressa dal parroco della chiesa di Santa Maria di Betlemma, Antonio Maria Forgione, che ha sottolineato che i tre baci della sera sono un regalo in più che si è voluto fare ai cittadini, a valere dell'importanza dell'anno santo. E non ci sono ulteriori aggiornamenti, terminiamo qui questa edizione di MTG. Grazie come sempre per averci seguito, vi auguro una buona serata, arrivederci a domani. Grazie. 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 Grazie.